Mezzanotte e 48, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. La politica sempre in primo piano, oggi l'informativa del Presidente del Consiglio Conte. Sui presunti fondi di Mosca alla Lega, i senatori 5 Stelle escono per protesta dall'Aula, per protesta contro l'assenza di Salvini, ma la vera ragione è il sì del Premier alla TAV. Il PD attacca, Conte non ha detto praticamente nulla e annuncia una mozione di sfiducia contro Salvini. Sentiamo. Già Luca Savoini non riveste e non ha rivestito alcun incarico come consulente del Governo e alla cena del 4 luglio con il Presidente Putin a Roma era stato invitato su richiesta di Claudio D'Amico, consigliere di Matteo Salvini. È il cuore dell'attesissimo intervento del Presidente del Consiglio al Senato per riferire sul caso dei presunti finanziamenti russi alla Lega, come chiesto dalle opposizioni di sinistra. Assente Salvini, Conte informa anche su altri punti. La visita a Mosca del 17 e del 18 ottobre è stata organizzata direttamente dal Ministero dell'Interno e ha partecipato anche Savoini. E anche il 15 luglio 2018, nella delegazione italiana a Mosca, su indicazione del Viminale, risultava Savoini. Infine il Premier precisa di non aver ricevuto informazioni dal Ministro competente, ovvero da Matteo Salvini. L'informativa del Presidente del Consiglio si svolge nell'assenza di quasi tutti i senatori del Movimento 5 Stelle che protestano per la posizione assunta dal Premier di Avalo della TAV, anche se Di Maio, poi precisa, hanno protestato contro Salvini che continuano a riferire in Parlamento sui rapporti con la Russia. Stiamo parlando del nulla, risponde il leghista Romeo. Non ci sono rubli, non c'è gasolio, non si vedono navi che trasportano cherosene, semmai si vedono navi di ONG guidate dal PD. Ma il Partito Democratico attacca. È ovvio che la posizione reticente del Ministro dell'Interno rispetto a quanto è avvenuto, spiega Zingaretti, è molto grave e incompatibile con il suo ruolo. Per questo motivo presenteremo una mozione di sfiducia contro un ministro che sta scappando dai suoi doveri. La reazione di Salvini arriva via social, la mozione di sfiducia del PD di Renzi, bosche Zingaretti contro di me, una medaglia, io non mollo, indietro non si torna. E il Movimento No TAV replica il Premier Conte che ieri ha dato il via libera alla Torino-Lione. Proseguiremo la nostra lotta popolare per fermare quest'opera inutile e imposta e sabato porteremo migliaia di manifestanti a Chiomonte, dice uno dei leader. E arrivano anche dure accuse al Premier, al Movimento 5 Stelle. Avete gettato la maschera e messo fine alla manfrina del governo del cambiamento. Solo scuse per tenere in piedi l'esecutivo. Andiamo in Gran Bretagna. Boris Johnson è il nuovo Premier britannico. 99 giorni per portare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea. Con o senza un accordo, ha detto il neo-Premier, spiegando che il no deal è un'ipotesi remota. A Westminster, intanto, l'addio di Theresa May, salutato da una standing ovation. In Gran Bretagna è iniziata l'era di Boris Johnson. 55 anni, già sindaco di Londra e ministro degli esteri, nuovo leader del partito conservatore. A lui, quattordicesimo primo ministro del Regno, la regina Elisabetta ha affidato la guida politica del paese. Poco prima, la Premier uscente, Theresa May, gli aveva consegnato le sue dimissioni, dopo un breve discorso di congedo davanti al numero 10 di Downing Street, accompagnata dal marito Philip. Ogni successo a Boris, il suo augurio finale. E se Boris avrà successo, lo si saprà nei prossimi 99 giorni, quelli che avrà a disposizione per chiudere la questione della Brexit. Nel suo discorso di insediamento, accolto da non pochi contestatori, ha ribadito che cercherà un nuovo accordo con Bruxelles, ma che la Brexit andrà realizzata ad ogni costo. Questo vuol dire che la Gran Bretagna deve prepararsi alla remota possibilità di un'uscita senza accordo con l'Unione. Non vuole che questo accada, ma l'impegno a portare il Regno Unito fuori dall'Europa il 31 ottobre è granitico. E per rispettarlo ha licenziato la stragrande maggioranza dei ministri del precedente governo e ha collocato nei principali portafogli suoi fedelissimi e sostenitori di una Brexit a qualsiasi prezzo, fra i quali il nuovo ministro degli esteri è Dominic Raab, che aveva rassegnato le dimissioni dall'esecutivo May per le sue presunte concessioni a Bruxelles. L'ex banchiere Sahid Javid al prestigioso Ministero dell'Economia. All'interno andrà Priti Patel, fedele e oroscettica. Un team che apre non pochi dubbi a Bruxelles, che ha lasciato intendere che l'accordo raggiunto a novembre non si cambia. Il mio rapporto non dice che Trump non ha ostruito la giustizia e non lo esonera totalmente. Sono queste le risposte più importanti dell'attesissima audizione dell'ex procuratore speciale sul Russiagate, Robert Mueller, prima davanti alla Commissione Giustizia e poi davanti alla Commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti. Audizione nel corso della quale Mueller si è più volte trincerato dietro il contenuto delle 448 pagine del suo rapporto. L'ex procuratore speciale però ha anche affermato che non è possibile incriminare un presidente in carica, non escludendo tuttavia che l'attuale inquilino della Casa Bianca possa essere incriminato al termine del suo mandato. Chiudiamo con lo sport. Giornata triunfale per il nuoto azzurro e mondiali in Corea del Sud. Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini conquistano l'oro negli 800 e nei 200 stile libero. 15 anni di carriera e non sentirli con quel diminutivo fede che è un inno a credere incessantemente nei suoi doti a dispetto della carta d'identità. Alle soglie dei 31 anni non si contano più i titoli, una collezione scintillante con l'ultimo dei sei ori mondiali che dalla Corea ci fa gridare all'ennesimo capolavoro, quando doveva solo onorare il successo di Buda per sta 2017. Nemmeno a dirlo nel 200 stile libero, il suo habitat o ancora di più la sua riserva di caccia dove colpire l'avversario è frastornate. Sono quattro i titoli ridati in questa distanza ed è l'unica che ai mondiali 2009-2011 si è concessa il lusso di abbinare di anche l'oro nei 400. Stavolta le malcapitate sono l'australiana Titmus e la svedese Sjonstrom che hanno subito il recupero strepitoso di cui Federica è ancora capace, fatto di astuzia e cattiveria con cui trasforma l'acqua amara per le altre. Talento e longevità, un mix che consente queste perle rare con cui la più forte nuotatrice azzurra di tutti i tempi si è sempre rigenerata alla grande dopo i passaggi a vuoto che possono aggredire la tenuta nervosa. Osannata e Federica come è giusto che sia, l'atleta che non si piega la scia mediatica del personaggio e parla ancora con i risultati preziosi che la spingeranno tra un anno a Tokyo per la sua quinta Olimpiade e il canto del ciclo. Faticare e soffrire, ancora gli piace come anche in questa occasione se la stava facendo sotto dalla paura. Con la Divina ad esaltare l'Italia c'è anche lo squalo Paltrinieri che conferma l'attitudine per la vittoria dimostrata ancora di più nei momenti difficili. Gli 800 sono sempre stati indigesti per Greg in chiaroscuro negli ultimi quattro anni. Ed eccolo invece con un incedere forse nato che gli frutta il nuovo primato europeo e frantuma la concorrenza, compreso Gabriele Detti che si presentava da campione uscente e finisce quinto. Ed era l'ultimo servizio, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.